Sì, allora, lui viene e mi viene da afferrare il collo, ok? lui viene e mi viene da afferrare il collo, destra e sinistra e mi spinge giù, ok? Quindi lui viene e mi appesa. Iniziamo a fare questo movimento qua, scendiamo la gamba a terra. Lui vuole la protezione del braccio, leva, ok? Quindi, lui viene e mi viene da afferrare, lo vado giù, se lui riesce a ruotare, ruota il braccio. Sto da questo braccio, tiro il braccio. Ok, provate, piano piano.